Poi io non sapevo niente eccetera, mi hanno contattato chiedendo se ero interessato ad andare a vaccinare negli hospice o nell'RSA le persone. E mi dissero guarda è una cosa estremamente favorevole perché ti diamo tra i 180 e i 200 euro a singolo paziente in una giornata di portare a casa tra i 1500 e i 2000 euro al giorno. Ora tu immagini uno che prende di stipendio 2000-2500 al massimo 3000 euro gli proponi di prendersi lo stipendio che prendi in un mese al giorno e di poterlo fare per i prossimi tre mesi. C'è gente che si è comprata gli appartamenti. C'è gente che si è comprata gli appartamenti.